E' venuto Mancini a trovarmi, a noi, guardalo, e giustamente si è portato la sua padella, il suo olio, il vino, i pelati, il passatutto, che è importante, il passatutto è la sua penne, perché lui giustamente come ospite deve portare tutto, è lo spettacolo, ha cambiato pure la pentola, quella che dicevamo noi, non mica il bado, guarda che ce l'ho pure da alluminio, è più buona, Alluminio la pentola, se stiamo così questa, c'è una storia, capito, questa è la storia, questa è la pentola, come faccio le immagini Non mi ha arrabbiato coglioni, non mi ha arrabbiato, ecco, un asciughino, un asciughino, tira fuori un asciughino, va bene, vedrai perché l'asciughino, Visto questo è forte, come lui, ieri che l'altro giorno mi ha causato l'insalata così, schizzo dall'aluminio, Noi si vede arrabbiata, prima cosa, sale, sale fino, sale fino, vai, io non sarei più bene perché dopo ti metto su YouTube, L'aglio ti piace? A me si, a lui, di solito uno spicchio d'aglio ogni due persone, a chi gli piace anche uno spicchio d'aglio, Tetti garba? Ah, uno spicchio, no, non mi cosa ha così, come questo in vestaglia, vabbè, hai avuto la borsetta, Cliccolò tutti dopo, sono vestagliati, cliccolò tutti, è troppo forte, ma è troppo forte il mancio, ma io, Io guardo proprio a specchio, ma io non ce l'ho fatto l'anima, perché l'anima è l'asta, l'anima? L'anima è mortacci vostri, ma che anima è, scusa, dell'aglio? Perché l'aglio c'ha l'anima, Sì, l'anima, quella che fa la pianta, ah, non sapevo la cicciola, madonna buona, guarda, è uno spettacolo sto, anche truccolo, se te prendi il tempo, inserisci l'orario, guardiamo il tempo, le 8, le 8 e 36, in 20 minuti ti metto a tavola, ma che bisogna fanno, vedici che ci li fa, mancio, io, fammo l'assistenza, peperoncino, dov'è il peperoncino? No, ma noi ce l'abbiamo, abbiamo questo qui, di peperoncino, perché pizzica troppo, ah, vabbè, questo pizzica troppo, perché è strano, ma che cazzo, questo è peperoncino, di chi è? Che ha fatto? È acidoso, madonna, insomma, peperoncino, quello peperoncino, ma ce l'abbiamo quello congelato, figlio, che cucina siamo questo qui, guarda, ce l'abbiamo questo qui cucinato, guarda, questo è quello nostro, del terrazzo, va bene questo, guarda, un po' mancio, guarda come schiato, questo va bene, ma porta pure il pestalardo, ma porta pure il pestalardo, ma non so, ma io ascolta, non posso, certo dubbio, va bene, c'ha tutto, ma guarda, ti fai la trasmissione di mazze, guarda, ti fa morire, porta mancio, questa è stagione, ti fai la trasmissione, dog?'